Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le università diventeranno molto probabilmente delle fondazioni private, che cosa significa? Che non saranno più pubbliche dei cittadini, ma i privati prenderanno le nostre strutture, prenderanno le nostre tasse e a noi comunque non tornerà niente indietro. Se paghiamo adesso rette di 500 o quello che è di tasse, le tasse potranno diventare come quelle delle università private. Pagheremo 4-5 mila euro di retta senza avere nulla indietro, con le università che prenderanno soldi dagli sponsor sulle repubblicità e quindi poi questo porterà una gestione alla fine di questi sponsor, di questi organismi privati che daranno soldi all'università nella gestione del nostro studio. Un esempio molto classico, se la facoltà di farmacia si fa sponsorizzare dalla Graxo, che è una multinazionale farmaceutica, vi lascio immaginare che cosa ne sarà della ricerca farmaceutica, stata repubblica all'università di farmacia. Questo è un esempio come tanti altri. E questa è una situazione gravissima, gravissima. Questo porterà anche all'istituzione dei numeri chiusi, che già è un pericolo che incombe su di noi, da anni anni. Questo forse non è un problema che ci tocca a noi da vicino, perché siamo già dentro. Ma pensate ai vostri fratelli più piccoli, ai figli, ai vostri, che chiunque dovrà entrare, molti corsi in aria saranno direttamente sofferenzi perché non ci saranno i soldi che portarli avanti. Quei voti che rimarranno, ti dovremo pagare e non saremo neanche sicuri di poter entrare all'università. Cioè qua si viola la Costituzione fondamentalmente, perché non c'è più diritto all'istruzione, ad accedere a tutti i livelli di istruzione. Siamo con essi rischi grossissimi, veramente. Dalla scuola elementare fino alle punte più alte della rischia. Perché? Innanzitutto per una ragione semplice, economica. Tagliare la scuola, tagliare l'università è più facile. La scuola finanziaria, che già è stata approvata a fare una semplice operazione, prende 8 miliardi di euro che erano essenziali per la scuola e li porta a finanziare le cose, a finanziare le banche, a finanziare le grandi industrie, a finanziare le decennità. Possiamolo non forci a questo. Possiamolo non forci a questo. Io credo che non possiamo. Non possiamo per le nostre esistenze, per i nostri destini individuali. Non possiamo come Paese. Perché è chiaro che si fa una scelta. E' la scelta dell'ignorante. Se staremo fermi, se non radicheremo la nostra lotta, se non avremo il coraggio di lottare per il nostro futuro e per mantenere un sapere pubblico, un'università pubblica, una scuola pubblica, allora saremo degli sconfitti. E avremo, se non fanno la morte dell'istruzione pubblica, avremo una responsabilità storica. E avremo una responsabilità storica. Se riusciremo a bloccare questo ministro, riusciremo a registrare, ci riapproprieremo finalmente delle nostre scuole e delle nostre università. Dobbiamo forci con le nostre intelligenze. e avremo una responsabilità storica. Dobbiamo forci con le nostre intelligenze. Dobbiamo forci con le nostre intelligenze. Bebiamo forci con le nostre intelligenze. E avremo un' apropria, bev kami a la gran italianica storica, e alle nostre attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.